Oggi questa prima convention del Gruppo dei Cento al Teatro Centrale di Sanremo, avete discusso del futuro di questa città, come la vedete un domani? Allora la vediamo innanzitutto con grande entusiasmo, perché abbiamo visto oggi che i gruppi di lavoro hanno fatto un eccellente lavoro dimostrando quello che è possibile fare su Sanremo. Sanremo è una città complessa, ma è una città che ha delle risorse incredibili e quindi bisogna puntare su queste risorse per dare vita a questa città, renderla inclusiva, renderla attraente. Nei nostri laboratori abbiamo cominciato a dare delle idee, ad esempio sulla mobilità, su altre questioni come la sicurezza stradale e altre questioni che riguardano proprio l'inclusività sociale, rivolta cioè anche alle fasce più deboli. Questi argomenti sono così articolati e così complessi che hanno necessità di avere un approccio multidisciplinare ed è questo il nostro progetto principale, fare una sintesi su queste situazioni per dare poi delle soluzioni concrete che oggi abbiamo visto presentate in queste slide.